Se vai in palestra, in piscina o al mare e ti piace truccarti, devi usare prodotti a lunga durata o resistenti all'acqua. Al momento di struccarti però, ottenere una perfetta pulizia può essere un problema. Questi trucchi, infatti, sono più resistenti e richiedono di solito un impegno maggiore. Il pensiero, infatti, è come faccio a toglierli completamente. Ci vuole qualcosa di forte, ma allo stesso tempo delicato. Finalmente, adesso c'è una soluzione che rende tutto più semplice. Prendi una salvietta dalla confezione e assicurati di richiuderla correttamente per preservare igiene ed integrità. Senti come è morbida. Visto il tessuto, presenta tanti piccoli rombi. E con un semplice movimento si trasformano in fantastici cuscinetti per massaggiare la pelle. Passala delicatamente sulle zone da detergere. Vedrai subito l'effetto della formulazione ad elevato potere struccante. E gli oli emollienti ti aiuteranno a rimuovere in profondità trucco e impurità, lasciando la pelle morbida e purificata. Non è necessario strofinare il viso eccessivamente o insistere nei punti più delicati come ad esempio gli occhi, che altrimenti potrebbero arrossarsi. Grazie a tessuto e formulazione così innovativi, saranno le salviette a sciogliere il trucco e non la forza con la quale le usi. E in poco tempo il tuo viso tornerà perfettamente pulito e disteso. Ideali per andare a letto, ma anche per lanciarsi in un nuovo fantastico make-up.